eccomi qua parliamo di serie b finalmente si è giocato il quinto ultimo turno oggi fra ieri e oggi abbiamo parma che ha pareggiato a palermo e che continua a gestire il suo vantaggio che ora però si è ridotto si è ridotto e a tre punti sul como secondo in classifica il quale se non sbaglio a tre punti di vantaggio su venezia e a questo punto e fra queste tre che usciranno le due promosse perché la cremonese ha pareggiato a catanzaro e penso che difficilmente potrà rientrare nei giochi per la promozione diretta per i quali da oggi è escluso il palermo il palermo fuori ed è una delusione perché il palermo da me stesso era dato col palma come una delle grandissime favorite per la promozione diretta in serie a ieri sera che non ho visto la partita perché chiaramente state stavo guardando un'altra ieri sera hanno pareggiato il palma si avvicina la promozione palma che adesso dove affrontare lecco in casa però occhio a sto lecco che se la sta giocando con tutti anche oggi con venezia in vantaggio poi ha perso 2 a 1 poi va a bari poi scende a bari in una partita di capitale importanza che non lo so forse vado a vedere poi ospita la cremonese in casa e poi finisce in casa della reggiana e l'ecco a parte non ha un calendario facilissimo il palma è però a questo vantaggio che può naturalmente amministrare ora vediamo come che delle tre avanti è quella più in forma evidentemente e come invece a a genova trasferta insidiosa genova che lotta a ripari off poi como cittadella modena como e como cosenza calendario di gran lunga più abbordabile quello del como che a questo punto penso a prod in serie a e con la proprietà che ha con la struttura che ha organizzato uno stadio fatiscente e va bene che va rifatto la cima a fondo ma il como squadra sale in serie a se sale dritto in serie a tutta l'area di restarci a lungo non solo è una squadra molto ambiziosa con un grande profilo internazionale presidente dennis weiss ex capitale del celsi allenatore tale roberts coadiuvato dal grande cesc fabregas in società c'è anche tale tt henry e dato verono dire se 0 a 0 ma che sto guardando wolverhamton arsenal e più a uno sponsor che mola tv questa è una squadra che ha tutta l'aria di restarci a lungo in serie a se sale venezia invece domenica c'è venezia cremonese poi catanzaro venezia venezia ferralpi va bene e spezia venezia quindi capite bene che si va verso un parma e como in serea direttamente col venezia terzo in classifica cremonese e poi catanzaro e palermo catanzaro e palermo e poi ai quali si aggiungeranno altre due che usciranno verosimilmente fra brescia sandoria cittadella e pisa che sono le quattro in lotta per gli ultimi due posti playoff allora 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 prossima brescia spezia sandoria como come già detto pisa catanzaro altra grande partita cittadella e cittadella feralpi poi cremonese pisa altra partita interessantissima la cremonese che lecco sandoria lecco sandoria come cittadella come già detto e ferralpi brescia alla penultima brescia alecco sandoria pisa su tirol cittadella bari e l'ultima poi catanzaro sandoria bari brescia cremonese cittadella e ascoli pisa quindi converrete che le favorite per accedere ai playoff sono sicuramente brescia sandoria adesso però ho dato un'occhiata anche alla zona bassa della classifica in cui è inguaiatissimo il bari al quarto allenatore è veramente molto inguaiato il bari quattro sono essenzialmente le squadre che si disputano nell'ordine 4 o 5 ci sono ternana spezia ascoli e bari oddio cosenza reggiana non ne sono ancora del tutto fuori modena però hanno un buon vantaggio classifica ho visto un po il calendario di ternana spezia ascoli e bari e devo dire che la ternana è quella col calendario migliore lo spezia è quella con quello peggiore e poi bari ascoli con il bari un po in vantaggio che naturalmente proverà vorrei andare a guardarmi bari parma il primo maggio devo dire e non lo so vedo di andarci a guardarmi un po il bari voglio tornare a san nicola dopo tanti anni a guardare una partita del bari bari che è messo male bari che è messo male rischia rischia tantissimo rischia tantissimo perché le altre bene o male i punti li fanno oggi allo spezia con la sandoria finita 0 a 0 hanno annullato il gol il var quindi sapete benissimo che è punto a punto e il bari francamente la vedo dura per il bari è molto dura domenica prossima che è una giornata campale in testa in coda c'è venezia cremonese pisa catanzaro per dirne una venezia cremonese se il venezia non vince sandoria como forse domenica è l'ultima opportunità per il venezia per poter agganciare il treno della promozione diretta in caso contrario penso che finirà così c'è cosenza bari cosenza bari e morte tua vita mia una partita ternana ascoli mi sa che c'era la prossima anche infatti cosenza bari e ternana ascoli sono morte tua vita mia la reggiana che non è del tutto fuori va a palermo modena sul tirolo è già una roba un po più abbordabile devo dire e insomma è una serie b che magari domenica potrebbe mettere il primo verdetto c'è parma lecco potrebbe arrivare la retrocessione aritmetica dell'ecco in serie c ma per tutto per quanto riguarda il resto è tutto da vedere tutto da vedere fermo restando che calentare la mano ci sono delle favorite e chi è più in difficoltà va bene cosa ne penso io io penso che alla fine stiamo verso como parma con playoff con venezia cremonese palermo catanzaro o catanzaro palermo e poi breccia sandoria sui playoff se la griglia resta quella io dico cremonese io dico cremonese per la promozione ai playoff poi naturalmente sulla sulla salvezza e direi che ancora in alto mare molto importanti saranno i risultati di domenica ternana ascoli e cosenza bari il bari se perde a cosenza ed si mette veramente malissimo perché poi ha il parma in casa ternana ascoli diciamo che per l'ascoli se non è se non è l'ultima spiaggia poco ci manca anche se vediamo che l'ascoli da calendario a poi la il cosenza in casa cosenza e pisa in casa e palermo in trasferta ma è l'inerzia che preoccupa per il bari è l'inerzia completamente negativa non vincono da una vita questi praticamente non vincono da mamma mia mamma mia ma quello cazzo è che hanno vinto questi ora il bari non vince il bari non vince da da febbraio il bari non vince dal 17 febbraio bari ferral più una zero poi poi ha fatto due vittorie con lecco e ferralpi a febbraio ma poi per trovare un altro risultato positivo ragazzi veramente bisogna arrivare un'altra vittoria bisogna arrivare la vittoria con la ternana di gennaio e raga è dura è dura e quando arrivi a chiamare uno come giampaolo vuol dire che sei la disperazione più cupa vuol dire che sei pronto al peggio quando hai cambiato mignani grandissimo errore grandissimo errore sarebbe da ridere se il palermo va in serie a con mignani ai playoff sarebbe veramente da ridere se il palermo va in serie a con mignani che non andava cambiato calo de laurentis non andava cambiato mignani l'erroraccio di chiamare un marino caso mai andava chiamato subito iachini subito iachini se proprio vuole puntare alto iachini ha fatto quello che ha potuto poi sono ripompiati nel tunnel negativo e adesso questa è veramente la carta della disperazione e quella messa peggio perché l'ascoli con carriera qualche segno di vita l'ha dato spezia ternana che sembravano quasi condannate si sono riprese alla grande con grazie al mercato di gennaio anche il bari è dura è dura davvero è purtroppo non vorrei portare sfiga i paresi sembra un po il destino del bari di catuzzi che da un anno all'altro prima sfiora la serie a poi vengono ceduti i pezzi migliori l'anno dopo finisce in serie c con lo stesso allenatore catuzzi il bari di catuzzi bari dei baresi il famoso bari dei baresi che sfiora la serie a arriva iorio in attacco e poi sarebbe andato alla roma vincere lo scudetto e via iorio arriva tal de tommasi o già c'era de tommasi con che altri c'era in quel bari c'era il giovanissimo caricola prima di andare a juventus il portiere bruno fantini la difesa era allo seto detrizio ronzani c'era una squadra che l'anno prima aveva sfiorato la serie a l'anno dopo finisce in serie c ultima in classifica e non vorrei tirarla i baresi ma la strada sembra la medesima è addirittura matarrese chiamo radice niente meno che gigi radice per provare a risollevare la squadra che purtroppo non riuscì poi radice ben buoni stagioni all'inter al torino il bari poi avrebbe conosciuto la doppia promozione con bruno bolchi poi subito la retrocessione poi gli anni con salvemini e via dicendo poi fascetti ma materazzi prima ma beppe materazzi fascetti tempi lontanissimi cari baresi non lo so non lo so certo oggi l'hanno presa più di cuore che di altro con una squadra del pisa sì che sembra squadra rognosa ad affrontare spero con tutto il cuore da amico dei barisi che alla fine riescono a salvarsi ma è dura è dura veramente vi siete complicati la vita in un modo incredibile cioè del laurenti ci ha capito poco e ancor meno il ds hanno veramente dimostrare un anno bruttissimo per i del laurenti quest'anno è fra napoli e bari veramente bruttissimo l'anno dei del laurenti sei vabbè raga iscrivetevi al canale perché c'ho anche da fare video sulle fake up a più tardi ciao ciao